Andiamo sulla strettissima attualità, ne abbiamo parlato prima anche in rassegna stampa inevitabilmente il blocco del vaccino AstraZeneca in Europa, una sospensione cautelare di quasi tutti i eh paesi in attesa naturalmente che l'EMA si pronunci sulle reazioni di questo vaccino. Ci facciamo aiutare dal professor Roberto Cauda, direttore di malattie infettive al Policlinico Gemelli di Roma, già collegato con noi, buongiorno professore, grazie. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Partiamo proprio, professore, dalla notizia, da questa sospensione, da tutta una serie di timori che eh gli italiani in questo momento hanno rispetto a questo vaccino. Abbiamo bisogno di chiarezza di qualcuno che di tutto ciò ha eh grande competenza come nel suo caso. Ci aiuta? Dunque, in questo momento effettivamente non si può dire molto rispetto a quello di prendere atto che diversi paesi europei hanno in maniera cautelata maniera cautelare sospeso l'impiego di AstraZeneca e hanno rimesso a EMA la decisione che modo da valutare tutto quello che è avvenuto, in particolare se quegli eventi avversi che sono temporalmente legati alla somministrazione del vaccino hanno o non hanno un rapporto di causalità rispetto al vaccino stesso. E questo è un qualche cosa che deve essere fatto in maniera molto veloce. So che giovedì l'EMA farà un primo comunicato che mi auguro sia univoco che non dia e non lasci spazio a interpretazioni ma che riporti quella fiducia nei vaccini che tutti i cittadini vogliono e mi permetta di leggere in modo positivo quello che è avvenuto perché vuol dire che i controlli funzionano e se come tutti auspichiamo non verrà stabilito quel rapporto di causalità sicuramente le persone saranno ancora più sicure perché c'è qualcuno che vigila. Quindi insomma lo ripetiamo sospensione cautelare proprio per fare luce naturalmente sulle possibili possibili niente di più conseguenze eh di questo vaccino eh professor Cauda però insomma noi sappiamo che più di un milione di italiani eh sono già stati vaccinati con AstraZeneca e quindi per rispondere alle loro preoccupazioni beh qualcuno a loro dovrà dare delle risposte dovrà dire loro come e se è necessario fare qualcosa. Dunque io non credo in questo momento sia necessario fare qualcosa come eh perché evidentemente queste reazioni compaiono compaiono abbastanza immediatamente dopo la somministrazione però ha perfettamente ragione eh c'è chi è deputato gli organi di controllo come AIFA che dovranno esprimere e dare come dicevo prima delle risposte molto precise. Vorrei aggiungere però e l'avete già detto voi prima dell'interruzione che l'organizzazione mondiale della sanità non ha posto alcun limite alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e nel Regno Unito l'ultimo report che io ho letto proprio ieri dice che non c'è un rapporto di un nesso causale tra gli eventi avversi eh che si osservano con la somministrazione del vaccino AstraZeneca negli Regno Unito sono stati vaccinati più di undici milioni di persone eventi avversi che sono del tutto simili a quelli che si osservano con altri vaccini e quindi non è stata decretata alcun tipo di sospensione interessante il Regno Unito ha stabilito una yellow card per mettere a disposizione dei cittadini sia la possibilità di segnalare possibili eventi avversi sia anche indicare quando ci sarà la risposta di tipo anticorpale. Ecco professore ci sta dicendo che è un buon modello da seguire quello britannico? Io dunque eh ovviamente aspetto le risoluzioni dell'EMA mi limito soltanto a dire che come c'è stata da parte di eh dell'Europa in maniera giusta a mio giudizio una sospensione cautelare che è cautelativa che non deve essere assolutamente interpretata in senso negativo ma positivo per fare chiarezza ci sono altre situazioni dove questo modello non è seguito ma non dico che uno è migliore dell'altro. Professor Cauda allora eh è stato chiarissimo naturalmente fin qui e per questo la ringraziamo. Noi sappiamo che l'Italia ha puntato tantissimo su AstraZeneca. I numeri li abbiamo detti prima. Allora poniamo che eh non bastino pochi giorni no? Per verificare le possibili conseguenze eh di questo vaccino. Eh su cosa deve puntare l'Italia per non perdere gli obiettivi che ci ha illustrato il commissario Figliuolo. Sicuramente su Pfizer e poi c'è questo nome Sputnik che torna molto spesso. Sì dunque Sputnik viene utilizzato se non vado errato nella Repubblica di San Marino in Ungheria in Serbia e in altri paesi è un ottimo vaccino dal momento che ehm io ripeto quelle che sono i dati della disposizione della comunità scientifica pubblicati su Lancet. È chiaro che eh nell'ipotesi malaugurata che ci fosse ehm una riduzione nella nell'approvvigionamento dei vaccini è chiaro che andrà un po' rivisto il piano vaccinale perché una macchina non si ferma e non parte in pochi minuti bisogna in qualche modo cercare di dare il tempo però ehm a questo punto non mettiamo come si dice il carro davanti ai buoi aspettiamo giovedì e eventualmente giorni successivi per capire qual è la decisione di Ema. La vogliamo davvero ringraziare di cuore per l'intervento, la chiarezza di oggi cercheremo di ricontattarla insomma prossimamente per queste tematiche così importanti per tutti gli italiani grazie al professor Roberto Cauda, ricordiamo direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Policlinico Gemelli a Roma e ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buon lavoro e a presto. Grazie, è stato un piacere stare con voi.